ciao ragazze ciao ragazzi quella che avete visto è un'orchidea e nella fattispecie è un'orchidea che si chiama vaniglia planifolia è l'orchidea della vaniglia oggi infatti vi volevo parlare di questa pianta so che questa pianta piace veramente a tutti e quindi vi volevo dire le cose che so io che sono limitate e poi gli usi che io ne faccio a casa mia perché da questa pianta si possono avere veramente tantissimi tantissimi usi e effetti meravigliosi allora anzitutto questa pianta originaria del messico e infatti era usata dagli aztechi per profumare la cioccolata essendo originaria solo del messico poi però si è diffusa in tutti i paesi tropicali e adesso ce ne sono le due varietà più pregiate che sono la vanilla bourbon dell'isola di reunion e madagascar e poi la vaniglia di tahiti che ha invece un bacello un pochino più carnoso più scuro e una profumazione un sapore più fruttato e più delicato rispetto alla vaniglia bourbon quindi dal messico questa pianta poi si è diffusa in tutte le regioni tropicali ma che cosa succede l'unico insetto in grado di impollinare quest'orchidea vive in messico e solo lì quindi in tutte le altre fasce tropicali questa vaniglia questa orchidea viene impollinata manualmente infatti se la pianta è curata bene ci mette all'incirca se non di più comunque all'incirca tre anni per fiorire dopo che la pianta ha fiorito forma dei bacelli cosiddetti bacelli di vaniglia che possono raggiungere una lunghezza anche di 30 centimetri e questi bacelli poi vengono raccolti non quando sono maturi perché quando sono maturi tendono a spaccarsi e quindi ovviamente uscire i semi vengono raccolti quando ancora non sono maturi i bacelli di vaniglia vengono messi nell'acqua calda poi chiusi in scatole botti di legno dove assumono il loro colore caratteristico scuro poi dopodiché vengono messi a essiccare e dopo che hanno essiccato nella botte di legno sviluppano il loro aroma dopo che sono stati essiccati lo conservano dentro di sé e quindi vengono mandati poi nei distributori nei negozi ed è proprio in quella forma che noi acquistiamo i bacelli di vaniglia essiccati allora l'aroma di vaniglia si dica che abbia proprietà antisettiche e che riducono lo stress l'ansia e la depressione e anche soprattutto proprietà afrodisiache la vaniglia infatti si è diffusa tantissimo assieme alla cioccolata e quindi dal 700 in avanti e in europa soprattutto per l'industria e la preparazione dei dolci mentre in africa e in altre regioni tropicali viene utilizzata per insaporire anche piatti salati invece in europa prevalentemente per i dolci si pensi per esempio alla crema alla vaniglia che tutte noi apprezziamo ora voi capite da quello che io ho spiegato da come nasce la pianta dal procedimento che i bacelli di vaniglia sono molto costosi in effetti un bacello può arrivare di altissima qualità può arrivare anche a costare fino fino a 8 euro questo proprio perché appunto vi ho spiegato come fa la pianta a crescere quanto tempo ci vuole e diciamo sviluppa un aroma unico come fate a riconoscere se un bacello di vaniglia che andate a comprare in drogheria o in un negozio di spezie è di buona di alta qualità e quindi a non farvi fregare sostanzialmente allora deve essere morbido deve essere talmente morbido che si può attorcigliare in un dito deve essere di un colore scuro e poi deve sprigionare un aroma abbastanza dolce non è troppo dolce in realtà l'aroma di vaniglia è abbastanza abbastanza dolce avvolgente fruttato caratteristico caratteristico appunto della vaniglia se voi siete amanti dell'aroma naturale di vaniglia di base di regola non sopportate i profumi alla vaniglia perché i profumi alla vaniglia 99 casi su 100 contengono un aroma artificiale che si chiama vanillina quindi che si chiama esattamente in modo identico a quello naturale che sprigiona poi la vaniglia dopo che è stata nelle botti e si avvicina molto all'odore naturale ma non ne ha tutte le sfumature soprattutto la seconda e terza nota soprattutto dopo un po non ha le stesse sfumature e anche quello sintetico artificiale viene messo un po dappertutto in bevande mi sembra anche nella coca cola negli omogeneizzati eccetera eccetera quindi noi siamo abituati a avere anche l'aroma sintetico per cui se voi non avete baccelli di vaniglia in casa da anni e anni sarà per voi difficile riconoscere l'aroma sintetico da quello naturale se invece siete persone che frequentano le drogherie che amano le spezie e che hanno sempre in casa dei baccelli di vaniglia vi sarà naturalmente più facile riconoscere l'aroma naturale che naturalmente cambia e varia a seconda della pianta della vita che ha avuto la pianta a seconda se è vaniglia bourbon o vaniglia di tahiti eccetera eccetera allora io adesso andrei a farvi vedere l'uso che faccio io dei baccelli di vaniglia allora ho preso le due zuccheriere che ho in casa mia questa è la prima in questa zuccheriera c'è dello zucchero bianco e voi vedete che dentro io ho inserito mezzo baccello di vaniglia infatti quando si apre questa zuccheriera perché è veramente paradisiaco questo baccello è qua da circa un anno e mezzo durano tantissimo io non ho praticato incisioni c'è chi vedete qui c'è il ricciolo classico vi faccio vedere il baccello di vaniglia allora qui c'è il ricciolo classico naturalmente questa è solo metà l'altra metà è rimasta all'interno della zuccheriera c'è chi pratica dei appena comprato il baccello dei taglietti e poi estrae i semini perché i semini sono adatti per alcune preparazioni di certi dolci e io invece preferisco mettere direttamente il baccello dentro lo zucchero senza praticare dei taglietti perché così il rilascio dell'aroma è più lento però mi dura anche un po di più perché poi quando si secca non lo potete quasi più piegare diciamo sarebbe l'ora di sostituirlo allora per quando lo dovete sostituire perché ormai è secco ed è passato un anno e mezzo come in questo caso naturalmente non buttate via questo preziosissimo dono della natura ma per esempio lo potete usare per aromatizzare il latte la sera prima di andare a dormire se siete vegetariani o vegani naturalmente utilizzerete il latte di soia se siete invece onnivori utilizzerete il latte intero normale lo portate a ebollizione con dentro questo pezzo di baccello di vaniglia e è una cosa che potete fare dovete vedere un po voi a occhio anche due o tre volte prima di buttarlo e vi verrà un latte serale profumato aromatizzato alla vaniglia e che è veramente fantastico quindi questo è il primo uso che io faccio della vaniglia metto nella zuccheriera e poi viene profumato e particolare anche il caffè dolcificato con questo con questo zucchero è veramente particolare da provare poi questo invece lo zucchero che io uso più spesso cioè quello marrone di canna vedete anche qua ho messo un bacello di vaniglia anche questo è qui direi da un anno buono infatti si è spezzato in due qui non c'è il ricciolo c'era forse dall'altra parte deve essere sul fondo del dello zucchero non lo so questo è un pochino più recente l'aroma è diverso perché è stato a contatto con lo zucchero di canna e quindi è leggermente non è dolce come come lo zucchero bianco è leggermente più aromatico e meno dolce però se devo fare per esempio dei muffin dei dolci eccetera io utilizzo questo zucchero che è stato a contatto per circa un anno con la vaniglia il profumo dei muffin dei dolci che farete sarà di nuovo diverso e incredibile ok poi l'altro utilizzo che faccio io della vaniglia è in olio essenziale allora questo è l'olio essenziale di flora alla vaniglia planifolia in questo caso bourbon quindi del madagascar quindi la varietà di vaniglia più pregiata che ci sia allora questo olio essenziale costa moltissimo perché sono per 5 ml 5 ml sono all'incirca 50 gocce se non sbaglio sono circa 40 euro quindi è un olio essenziale veramente veramente prezioso vi faccio vedere questa è la bottiglietta con il simbolo dell'azienda che è flora un'azienda molto seria che fa degli oli essenziali di alta qualità che ha sede a pisa vedete madagascar c'è scritto puro assoluto nota di cuore vaniglia planifolia steli viene ottenuto tramite corrente di vapore sui bacelli e sugli steli di vaniglia aroma per prodotti alimentari una goccia è sufficiente per 100 grammi 100 ml di prodotto adesso vi faccio vedere il colore di questo preziosissimo olio sperando di usare solo una goccia ecco ne sono venute fuori due allora vedete è molto scuro è un olio essenziale che è veramente tanto scuro non c'è nessun problema a contatto con la pelle se non il fatto che colore che macchia il profumo è qualche cosa di veramente difficile da descrivere perché non è come uno se l'aspetta non è dolce come l'aroma sintetico di vaniglia cui siamo abituati è a metà tra la vaniglia il cacao e il tabacco alcolico perché questa è la gatta allora vedete questo colore che sembra un po tabacco già il colore comunque è un aroma la dolcezza si sente dopo dopo qualche secondo iniziate a sentire la dolcezza di questo profumo ma una dolcezza particolare che niente niente a che vedere con l'aroma sintetico allora come uso io questo olio essenziale lo uso in questo modo per dei massaggi rilassanti in 50 ml circa di olio di mandorle dolci oppure di germe di grano oppure di jojoba ne metto 30 gocce e poi pratico un massaggio rilassante soprattutto addome spalle tempie è veramente rilassante prima di andare a dormire oppure ne metto 45 gocce in un diffusore d'ambiente per oli essenziali alla sera nella nella stanza dove vado a dormire questo olio essenziale può essere usato per i bambini anche per i bambini molto piccoli perché ne facilita il sonno e la calma e anche per massaggio va bene per la pelle delicatissima dei bambini quindi questi sono i due usi principali che ne faccio poi se ho ospiti e fa e faccio una macedonia metto alcune gocce di questo olio essenziale nella macedonia che diventa profumatissima e speciale non ho ancora provato sinceramente a utilizzare quest'olio essenziale per i dolci perché mi sembra inappropriato naturalmente cuocerlo e quindi direi che va bene per dei dolci al cucchiaio però io non ne faccio quasi mai quindi diciamo lo utilizzo prevalentemente per la macedonia penso che vada bene anche nel gelato naturalmente basta che voi rispettiate le proporzioni di una goccia per 100 grammi o 100 ml e questo video è finito spero che vi sia piaciuto se avete qualche domanda per quello che naturalmente so e che posso rispondere volentieri un bacione ciao